Escontro tra una parte dei medici di base della provincia di Teramo e la ASL rispetto all'esecuzione dei test sierologici per il personale docente non docente delle scuole prima dell'inizio delle elezioni fissato il 14 di settembre. In un comunicato la ASL di Teramo ricorda che in base ad una circolare del Ministero della Salute del 7 di agosto che ha fornito indicazioni operative per l'esecuzione dei test, i docenti e il personale creata devono rivolgersi al proprio medico di medicina generale che sulla base di un accordo perfezionato a livello nazionale con le organizzazioni di categoria devono eseguire il test. La ASL ricorda altresì che la circolare dice in modo chiaro che solo nel caso di personale scolastico privo di medico di base nel luogo del domicilio lavorativo il test deve essere eseguito dal Dipartimento Prevenzione della ASL di Afferenza. Dunque sulla base di queste indicazioni l'ASL di Teramo ha istituito un servizio di prenotazioni telefoniche dei test sierologici che su circa 2.800 persone operanti nella scuola in provincia di Teramo avrebbe dovuto riguardare un numero residuale cioè circa 100 unità. L'ASL teramana stigmatizza l'atteggiamento di 70 medici sui 260 operanti nell'intera provincia che si sono rifiutati di eseguirli rinviando i propri assistiti al numero di prenotazione. Per queste ragioni l'ASL sostiene che si siano verificati ritardi e disservizi con il servizio aziendale di prenotazione dei test preso d'assalto e il numero dedicato andato in tilt. Questa mattina poi c'è stata una riunione ed è stato deciso che da martedì primo di settembre saranno attivate due ulteriori linee telefoniche per la prenotazione dei test sierologici che saranno eseguiti dunque tutti i giorni dal lunedì al sabato presso gli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione di Contrada Casalena a Teramo. I numeri di telefono e gli orari cui i docenti e il resto del personale scolastico potranno rivolgersi ricorda l'ASL solo dopo essersi accertati che il proprio medico non eseguo i test sono lo 0861420653 già attivo, lo 0861420401 attivo da martedì primo settembre così come sarà attivo dallo stesso giorno il numero 0861420311.